poco più di due anni dal crollo era l'8 aprile 2020 13 i mesi di cantiere lavori senza sosta collaborazione tra istituzioni imprese e cittadini e il nuovo ponte di albiano magra è una realtà è festa grande per la tuscana ma anche per la liguria per le popolazioni che vivono sulle sponde opposto del fiume magra per cui questa è un'opera essenziale quasi 300 metri di lunghezza il nuovo ponte due piste ciclabili a inaugurare la struttura riaperta al traffico presenti tra gli altri il presidente della regione tuscana eugenio giani della liguria giovanni toti il sindaco di aulla roberto valettini il commissario straordinario fulvio maria soccodato i rappresentanti di anas è qualcosa di straordinario ha commentato il presidente giani sapere che da quell'8 aprile del 2020 al 30 aprile di oggi in due anni è stato ricostruito un ponte di quasi 300 metri questa è un'opera che dimostra quando le comunità locali svolgono il loro lavoro in rapporto con quelle nazionali in questo caso particolarmente con l'anas ecco che veramente l'italia è un paese di cui possiamo essere orgogliosi